Nel mio Ielo dice Guia proseguiamo in questo terzo video nel percorso giammatico delle sessantenni che assicutano tradugo per l'alto Adice, le Venezia e Giulie che inseguono in vano un cinquantenne. Allora, dunque, cosa ho qui in questo momento? Questi due rattrezzi, questo è per fare i capelli lisci, troppo lisci, no, ce l'hanno le ragazzine, siete ridicole, quindi abolito. Questo è per fare i boccoli, oh mio Dio, tutti questi boccoli, tutti questi teenager che escono dal parrucchiere, tutti questi quarantenni, trentenni, cinquantenni, che boccoli? No, diventa ridicolo. Poi ve le potete fare dopo, dopo, dopo che questo cinquantenne vi ha lasciato. No, dico magari una volta. Allora cosa fare? Eseguire una pettinatura di queste qua tristanzuole che si chiamano liscio spettinato, che tristezza. Questo passa il convento, in modo che con i bigodini, non so se si vede, grossi, è una spazzola che li alliscia bene bene col fond. Oppure se preferite andate dal parrucchiere. Vi vengono queste cose che vi farò vedere poi dopo quando mi vesto per andare a un incontro. Non ve lo dirò mai, non ve lo dirò mai. Ora, le creme di bellezza. Dici, ma le creme di bellezza non fanno niente, è meglio andare dal chirurgo. Speriamo che non mi attaccano adesso i chirurgi estetici. Mai andare a farsi le plastiche, ecco, nelle facce quando si è innamorati di un uomo troppo giovane. Questo è un pozzerottino, un pochettino così con qualche grinza. Bensì, usate le creme aggiosa, così come faccio io. Evitate il contorno. Sì, io mi sono fatta la ricrescita, quella si fa sempre. Ah, regà, ecco. Evitate, e qui di avvicinarvi, se no poi di notte, perché mi sono andata a coricare, sensivano poi i capelli e vi ritrovate con i capelli, che sembra che ci ha fatto la bibigliato. Quindi deve essere sempre fino a qui. Lo tenete una mezz'oretta, poi massaggiate gli eccessi, che si assorbe. Ah, ma non fanno niente. Lo sai chi dice che non fanno niente le creme? Quelli che non le usano. Chi di così si diono, traduco, che si seccano e preferiscono l'estitista o la puntura. No, le creme fanno di qualunque tipo il look. Anche se siete sole, che lui ancora non è detto che vi vuole, ancora non vi vuole, non è con voi. Mai mettervi le vistagliette, sempre accappatoi. Che sa di palestra, che sa di giovane, che sa di sprint. Questo era addirittura di mio padre, maschile. sì, meglio ancora, maschile. In modo che dentro questo vostro cercare di trasgredire con un look maschile dentro, tirate fuori la vostra femminilità. Ciao, mi raccomando, niente ricci, niente, capelli troppo lisci. No, non lo fate, non lo fate. A sessant'anni non lo fate. Queste sono le tragedie dei miei video per le sessantenni. Vi voglio bene al prossimo video.